acquista titoli digitali a prezzi scontati su instant gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi cosa voglio fare con voi beh da domani riparte la serie 7 che si veste di nuovo chiamandosi serie 9 non è un male sostanzialmente c'eravamo un po fossilizzati no sulla serie 8 attorno a un usage condensata attorno a zazian sun ed altre cose difficili oggettivamente da poter arginare ritorniamo a un metagram un pochino più calmerato dal punto di vista dei danni l'unico problema chiaramente è che è un metagame che abbiamo già visto quindi nonostante sia un metagame bello è un metagame che chiaramente dal punto di vista emozionale non riserva delle sorpresone è un metagame che si evolverà sicuramente anche in virtù dei mille mila eventi che si susseguiranno perché appunto non solo rose tower circuit victory road circuit ma anche vi ricordo il nostro di casa rise of galar circuito trimestrale ragazzi per chi non l'avesse seguito trovate sul canale youtube l'annuncio relativo a questo circuito di tre mesi con tanti tornei settimanali che potete serenamente fare con una sola iscrizione di livello 1 al canale twitch quindi una sorta di 30 centesimi per ogni per ogni torneo allora ho pensato in virtù di tutti questi eventi facciamo un recap anche di quelli che secondo me sono i dieci team dai quali si riparte i dieci team che vanno a creare il metagame e dai quali si deve ripartire per andare a costruire e far evolvere questo meta ed ecco che partiamo con un team che trovate anche su victory road molti di questi team li trovate su victory road relativo a un semi trick room zapdos grimsnarl zapdos life orb su chiaramente grimsnarl che mette gli schermi è qualcosa di difficilmente arginabile bisogna avere magari il colossal di turno allora ci si fa ma in team di questo genere si può anche mettere trick room sfruttarlo ovviamente come potete vedere con glastrier among us oppure si può sfruttare luci fu water che non è a caso water lì è proprio anche per andare a arginare colossal che se no altrimenti a glastrier e zapdos farebbe veramente un un gran male questo è un archetipo zapdos grimsnarl p2 glastrier che secondo me performa molto bene e quindi io ve l'ho voluto mettere fra i dieci team quando andate a buildare insomma zapdos tenetelo comunque d'occhio il life orb soprattutto perché insomma il max lightning life orb o l'air stream da 140 life orb si fa assolutamente sentire ma andiamo avanti altro team che vi voglio proporre questo è un team che ha fatto bene al circuito galar si parla del sun ebbene noi non ci siamo buttati alle spalle il sun nonostante graudon sia andato momentaneamente vunosi in pensione qui abbiamo un venosaur torcol grimsnarl per mettere gli screen e dusclops allora il sun probabilmente più tipico della serie 7 serie 9 quello con p2 ma ci può stare serenamente anche dusclops quindi nella slot questa qua intorno a me ora vedete dusclops potete sentirci anche p2 anzi direi soprattutto p2 ma vi ho voluto mettere dusclops perché è meno comune ma non meno efficace specialmente in un team del genere con glastrier white herb oppure weakness policy insomma lo si trova un life orb addirittura se magari il venosaur è lui weakness policy in virtù degli schermi di grimsnarl insomma si può un po giocare sugli oggetti questo chiaramente è un archetipo che è solido e crea un sacco di 50 e 50 come osa sempre fare sun perché è sempre in grado di fatti lo slip powderino lo switch in di torcol solitamente in questi team si lì da venosaur p2 in questo caso magari venosaur dusclops o venosaur grimsnarl quindi aspettatevi generalmente al più delle volte questa tipologia di lead e poi cercate di provare a capire il mind game dal punto di vista dell'avversario non è facile ma san è così andando avanti vi porto un altro archetipo che abbiamo visto anche se vi ricorderete tante volte in battle spot nelle mani proprio di questo giocatore qua spagnolo molto bravo quan ma l'abbiamo sempre trovato attorno alla 70 50 40esima posizione è stato un po il nostro villain alle volte proprio lui con questo team quando l'abbiamo trovato cercando la prima posizione con il team di jinx poi ottenuta con tanta fatica spectrier grimsnarl una lead eccezionale che fa veramente un discreto lavoro di sbarramento un po su tutto snarl più uno screen quello che serve snarl o light screen oppure lo screen incrociato ossia il will o wisp per arginare la fisicità e intanto piazzare un light screen oppure sia davanti due fisici will o wisp e reflect sia davanti due speciali snarl e light screen fake tears shadow ball sono anche una bella bellissima opzione per questo specchio che a questo punto prende veramente le kill e insomma una volta messo giù tutto il gabbiotto difensivo può arrivare celestia dare a maxare cominciare a fare kill snobollare lo può fare anche l'andorus rotom può calare il nasty plot fini può calare il calm mind questo fra tutti è uno dei team che più adoro fra quei dieci che oggi vi porto per far riprendere un po il punto con questa serie 7 che si evolverà lo ripeto specialmente anche perché vi voglio vedere tutti partecipare al rise of galar aperta parentesi in descrizione non l'ho detto nel link del video perché mi sono poi dilungato e perso trovate il link il sito peraltro anche www.risesircuit.com con tutte le informazioni per partecipare ma è veramente molto semplice ragazzi veramente molto semplice basta fare un abbonamento di livello 1 al canale nostro francesco pardini vgc nonché infilarsi nel server discord e poi registrarsi su twitch versus ma andiamo avanti su questo team non c'è niente altro da dire aspettatevelo e insomma sarà sicuramente un ottimo un ottimo team da giocare e aspettatevelo stavo dicendo quando andrete a testare duro per la serie 9 perché questo lo si trova poi team del nostro carrer fatto in joint venture con il buon pero peraltro secondo classificato alla players cup 2 vabbè rigi gas wheezing componente sun e poi regelechi usci fu cibi con un regelechi in grado di poter insieme a wheezing fare il giochetto che abbiamo fatto spesso e volentieri anche noi col nostro team e che poi è stata l'evoluzione naturale di questo ossia electro web sludge bomb sui whimsicott ignari di essere un punto a meno uno speed più lenti di wheezing anche qua si hanno i 50 e 50 creati da sun con switch adentro uno switch adentro torcol si ha comunque una discreta rognosità in fase di team preview da parte dell'avversario perché spesso e volentieri liddare bene contro rege gigas wheezing è in antitesi a liddare bene contro venus aur torcol è un team molto difficile da fronteggiare lo si batte probabilmente settando trick room ma se si setta trick room si regala il vantaggio della velocità torco che può essere rognoso non tanto in questo caso con l'eruption quanto con lyon inoltre settare trick room non è poi così facile data la possibilità di bloccare le abilità di fare taunt di spaccare un redirector con rege gigas e fare taunt magari sul trick room setter di fare slip powder di avere un usci fu choice band insomma qui si ha veramente tante 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 combo aspettatevi nuovamente di trovarvi questo team perché questo è uno di quei team secondo me dal quale si riparte andiamo avanti mettiamoci anche un rain dentro il team di one pablo nar che ha fatto molto bene alla players cop e è un team che si è fatto strada via via nell'usage ai tempi se l'è rifatta secondo me se la rifarà anche nell'usage di ripartenza di questa serie nuove perché è un buon archetipo raichu rilla cb entei celestila sono un ottimo quartetto di support in cast alla rain rappresentata in questo caso da politod spex che i suoi danni li ha e da un kindra che l'hai forbe ragazzi di max geyser sotto rain insomma non ve lo devo dire io insulterei la vostra intelligenza fa discretamente bene usando un eufemismo ma non è solo kinder a questo team qua spesso e volentieri si può dare maxare celestila si può dare maxare talvolta per fronteggiare bene san anche entei motivo per il quale entei è uno sciuca per reggere anche la max quake fatta da scorching san charizard e sparare una rockfall cattivissima insomma è un rain preparato a sun è importante ovviamente ma è preparato anche a tante cose ad esempio a trick room celestila questo tipo di celestila con sì due attacchi ma anche l'ichid sono in grado di gestire magari anche i p2 tapufini che solitamente è abbastanza difficile da tirare giù con kindra essendo un ottimo sponge non solo per la drago ma anche per la water contro rillaboom choice band non gradisce quindi questo è un ottimo team è molto figo anche da usare ma conosciatelo ragazzi non si dice affinché possiate affrontarlo al meglio perché anche questo secondo me lo ritroveremo andiamo avanti cominciamo a parlare di colossal non ne avevamo ancora parlato beh ce n'è ben due di colossal questo e quello dopo questo è il colossal più moderno di avatar fede di federico giocatore argentino con dragapult colossal lucifo water quindi doppia possibilità di triggering ma anche un togekiss redirector con yon e cartana glacier per completare l'opera glacier sta lì non solo per sfruttare la trick room avversaria qualora l'avversario vado a porre una trick room ma anche per fuori da trick room essere abbastanza rognoso qualora si voglia fare una roba diversa mettere gli screen magari con dragapult e poi andare a fare redirecting con follow me togekiss ecco a quel punto glass diventa ignorante perché se ti comincia a prendere una kill sotto sotto screen snobolla e life orb è complicata la situazione è assolutamente complicata gli da noia magari insieme che può fare il dentro fuori e per quello c'è un urcifu che sbattendosene del meno uno che insinio gli regala tutte le volte che entra e esce dal campo a propria potenza lo schianta di surging strikes è un team molto ben costruito è uno dei colossal che più mi piace e ve l'ho voluto mettere dentro perché va conosciuto e da qui si riparte insieme all'altro colossal ossia quello del campione della scorsa player's cup ossia il campionissimo wolfy glick campionissimo wolfy glick anch'esso doppia possibilità di triggering ma una core più stretta nel senso di maglie strette difensivamente ossia rilla boom in sin error che nel team di turano non avevamo e moltres che però invece può essere un ottimo elemento per sfruttare lui e non glastrier come secondo dynamax il light screen e la ridotta potenzialità fisica degli avversari dettata da will o wisp e breaking swipe di dragapult questo team lo abbiamo visto ovviamente all'opera moltissimo in mano a wolfy si è portato a casa una player's cup in virtù anche appunto dei tanti mind game che colossal turno 1 o anche turno 2 va a creare e insomma è un archetipo questo che vedremo spesso ecco c'è quello che voglio dirvi ragazzi non andate ad un torneo se non avete un solido game plan a colossal a questa versione e a quella che vi ho fatto vedere del buon turano altrimenti probabilmente se non siete particolarmente fortunati uno lo trovate e poi sono dolori ecco andiamo avanti ci sono ancora altri tre rental che vi voglio portare questo team di jose fugarte è un team non è neanche così molto particolare è un team però molto compatto vi ho voluto portare un team di riferimento che giri attorno a una core che abbia metagrosmoltres questo mi è sembrato quello metagrosmoltres fini mi è sembrato quello più interessante anche per questo raichu che è in grado di proteggere moltres triggerare metagrosmoltre abbiamo un cartana sword dancer per sfruttare anche un doppio fake outer incineron raichu e un tapufini supporter quindi che non ha calm mind ma che ha il pulse al servizio proprio del gioco di squadra per veramente tutti veramente tutti quindi moltres metagros cartana moltres peraltro qua è un misty seed questo team non mi vorrei sbagliare o prendere granchi non ha fatto risultati particolari ma è un team che secondo me potrebbe essere interessante per ripartire e dal quale prendere spunto per migliorare sostituendo magari un pokemon una mossa a seconda del vostro stile di gioco e è un archetipo che vi ho voluto mettere dentro come detto affinché possiate un po a riprendere la mano per questa serie è stata chiamata da uno degli utenti in chat durante le nostre live su twitch meravigliosamente serie 7.2 più che serie 9 ma insomma io sono convinto che la serie 9 poi assumerà una dignità propria ma ci vorrà quantomeno un paio di settimane o tre ossia qualche team strano che magari si vince qualche torneo magari del rise of galar o del vr circuito del rostauer e si comincia a cambiare un po quello che è l'usage dei mesi che furono di novembre dicembre gennaio andiamo avanti vi porto un team di un altro italiano marco fiero che è un standard compattissimo lapras team lapras metagross non potevamo non mettere comunque gigalapras che paradossalmente ha fatto molto meglio in uber grazie a proprio l'alchimia fra gigalapras e zasian ma che non va dimenticato affatto a lunghi tratti e fa bene anche in serie 7.2 chiamiamola così da adesso in avanti serie 9 e quindi io ve l'ho riportato a mio giudizio il team di nostro marco fiero è quello migliore ce ne sono anche altri fatti mi sembra proprio anche da poche alex da sekiam con dracovic atti a sfruttare nel late game una rain messa dal geyser questo a me piace sicuramente di più in virtù di amongus cartana insinior che sotto velo e aiutati proprio da un geyser fanno stra benissimo stra benissimo anche qui abbiamo un tornadus che aiuta lapras a sopperire uno dei suoi punti deboli ossia la velocità con una tailwind ma aiuta con brutal swing anche metagross in una cosa molto banale ma sempre funzionale se l'avversario magari non la pensa e non la countera ossia brutal swing weakness policy trigger e metagross che diventa indecente andiamo avanti ultimo archetipo è il team che forse più di tutti è diventato famoso quantomeno in italia l'evoluzione del team che portammo con francesco pero ed io alla gamestop zinc cup che poi giulio tarlaua in maniera definitiva modificato e questo è io definisco il team più compatto di tutta la serie 9 quello che quantomeno all'interno dei nostri confini nazionali va a dettare l'usage grimsnar lentei grimsnar p2 un pin 2 anche molto offensivo atto a dynamaxare insomma questo è un team top lo avete visto veramente in ogni dove giocato stragiocato rigiocato contro un team del genere bisogna avere le idee chiare di cosa possa e voglia fare l'avversario e magari avere e nascondere qualche tech non necessariamente da best of one ma anche magari da best of three all'interno del proprio team ad esempio una breccia nascosta da qualche parte perché è un team che fa della compattezza attorno agli screen di grimsnar molto della sua potenzialità moltre sconvisione antisabbia è una gran figata perché chiaramente voi andate a ignorare quello che altrimenti potrebbe essere un problemino per il team sia mongus che potrebbe sparare una spore una sporella a destra e a manca anche magari quando l'avversario forzato a mettere distorto zona voglio appunto sfruttarla potrebbe andare a redirettare roto ma allora beh vedendo la safety goggles la visione antisabbia già il la mongus nella team preview sta un po più parliamo a liste aperte qui parliamo di tornei sta un po più sul chi va là insomma non vi devo spiegare oltre per quanto riguarda questo team che peraltro voi vedete il codice lima è una vecchia immagine ho controllato non è available quindi giulio deve aver magari giustamente tolto con il nuovo inizio della serie 9 ma insomma per conoscenza di mosse l'unico rental che non funziona gli altri li potete tutti scaricare e quindi cominciare a giocare testare per il primo torneo il garal carousel del 5 maggio che qui sotto in descrizione vi dico come fare c'è il sito per iscriversi al rise of galar ma questo è quanto ragazzi io vi saluto spero che questo video possa essere per voi un buon servizio pubblico per riprendere la mano con la serie 9 che abbiamo detto 7.2 noi ci vediamo oggi ore 18 proprio con la serie 7.2 su twitch e potremo magari prendere spunto per continuare a parlarne da settimana nuova riparte il battle spot ripartirà la nostra corsa che inseguiremo sempre alle ore 18 su quello viola per raggiungere la prima posizione e appunto per testare in vista di quelli che saranno i primi tornei della rise of galar i primi night's point in palio per potersi qualificare alle night's finals le rise of galar finals laddove c'è un nutrito premio in denaro se non avete visto il video di lancio lo trovate su youtube ciao a tutti ragazzi e grazie grazie grazie